E' stato il sesto incontro promosso dalla Fondazione FOA che ha voluto parlare di riforme e costituzione, questa volta con Luciano Violante, magistrato ed ex presidente della Camera. La politica secondo Violante sta vivendo momenti di torsione. Le riforme, ha detto l'ex magistrato, devono essere condivise e non sono mancati riferimenti alla riforma del titolo quinto della Costituzione. La riforma con la quale oggi i presidenti delle regioni possono governare le regioni, senza quella riforma avrebbero i poteri, cioè non avrebbero nessun potere, che erano previsti nel 1948, quindi quella riforma è stata giusta ed è quella che consente oggi alle regioni di andare avanti. E alcuni giorni fa Boccia ha bacchettato il federalismo della Lega, definito a due velocità, per Violante invece deve essere solidale. E' un federalismo abbastanza solidale. Bisogna rendersi conto di questo, che per quanto riguarda i fondi per equativi, che sono i fondi che riguardano l'intervento nei confronti delle regioni più deboli, fatti da regioni più forti, il 100% dei livelli essenziali delle prestazioni è assicurato e è assicurato il 75% delle altre prestazioni che non sono essenziali. Dure le parole infine del presidente della fondazione FOA, Sabino Colangelo, che ha affermato nei partiti non si forma più la classe dirigente, il risultato è sotto gli occhi di tutti.